Ciao a tutti, oggi vi propongo una ricetta con il melone. Siamo abituati a mangiare il melone a fette o in una macidonia. Quello che vi propongo oggi è un primo piatto, un primo piatto molto fresco, composto da parro, rughetta, melone e oliva nera. È un mix molto particolare e ideale da consumare nelle sere d'estate, soprattutto dopo una giornata molto affosa, in quanto la presenza di liquidi all'interno del melone aiuta a reidratare i liquidi persi durante la giornata. Non aggiungo altro, vi lascio alla ricetta. Ciao ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!